aspetta un minuto chi sei? Christian Plus oppure puoi chiamarmi come cazzo vuoi minchia tra poco muoio mentre faccio il video come state? come state? ho proprio finito di sgloccarmi un chilo di pasta mandate sano Galilei ha fatto un'altra di pezzo io ho sentito parte perchè lo cerco su instagram questa canzone a mio padre la sentire la parte che ho sentito spoiler chiamerà una canzone di cultura secondo me lui l'ha pubblicato l'ha pubblicato perchè gli piace ovviamente se non ti piace una cosa non pubblica adesso vengo a fare un discorso veramente che non ha senso però venga bastanti a non fare non ha senso comunque visto che siamo in tema buona madama e tutti i miei amici musulmani buona madama e anzi buona per loro che rispettano la loro religione cioè che abbiano rispetto per la loro religione noi cattolici che veramente andiamo in chiesa ogni 3 anni però fare la madama penso che sia soprattutto rispetto capisci rispetto per la religione dai basta parlare di caccaglia basta parlare di stronzata andiamo al video come sta dicendo io ho aspettative non mi aspetto cioè mi aspetto comunque che è sempre Gale raga Gale quando fa una nuova cosa schizza 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 nel modo positivo quindi Gale gualu cioè non guaglio eh gualu siccome dovremmo senterlo dire gualu 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 schizza 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh